Eccoci qua, buonasera da Curmaier, concludiamo la sesta e ultima giornata dei campionati italiani assoluti duemilaventidue con la voce dei protagonisti delle squadre campioni d'Italia, cominciamo con quella di Sciabola Maschile e con il centro sportivo esercito, eccoli qui il capitano Giovanni Repetti, giusto capitano? Giusto capitano? L'esperto, a sua volta esperto, vice capitano Gabriele Foschini e il più giovane del team che è Emanuele Nardella e allora cominciamo dal più giovane così il capitano poi può valutare anche la sua dialettica e la sua diplomazia in questo caso Emanuele, squadra insomma composta da tre atleti intanto, vi mancava Dario Cavaliere lo diciamo che sarebbe stato evidentemente un rinforzo molto valido, gli inviate il cuore per due che vi guarda da casa e che gara è stata, che aspettative avevate? Ricordiamo e poi dopo ti lascio la parola che è la prima volta che il vostro centro sportivo vince il titolo di Schapol, quindi sei arrivato insomma e hai fatto, hai scritto e contribuito a scrivere con i tuoi compagni una piccola pagina di storia. Allora sicuramente questa gara, questa gara era difficile senza Dario perché la sua essenza comunque non dico che l'abbiamo sentita ma quasi, appunto perché mancava un componente importante della squadra, ci siamo detti che dobbiamo stare più uniti di prima, dobbiamo spingere, dobbiamo dare forte in ogni match botta su botta e la cosa che ci ha fatto vincere, che ci ha fatto tenere uniti è stata proprio proprio la forza di squadra, quindi ognuno contava sulle proprie forze e sulle forze degli altri e alla fine abbiamo continuato così fino a vincere i campionati italiani. Ecco diciamo che a proposito di forza, nel vedervi da fuori Gabriele Foschini, essendo in tre non in quattro avete urlato per 44, visto che insomma eravate particolarmente calati nella parte, nell'assalto, è stata una semifinale insomma punto a punto diciamo, sì, edulcorriamo il tutto, ma insomma è stato bello e credo che insomma ci abbiate messo anche molto carattere, non so quanto poi la componente caratteriale nella gara squadra possa contare, usa il microfono. Sì, scusate, non ho più voce da ieri, questo è un indizio già che ho finito tutto, però sì, è stato dall'inizio giornata, ogni assalto sempre duro, sempre tirato al massimo e poi sai come con questi ragazzi l'importante è divertirsi, stare uniti e vincere. E il ruolo del più giovane? Valutate il più giovane, voi esperti, l'esordio del più giovane squadra, ricordatevi quando voi a 18-19 anni avete debuttato nelle gare a squadre, senza fargli del male possibilmente, visto che stai stringendo un po' troppo. Per me è come un fratellino, da quando è entrato l'ho preso subito sotto la mia ala e adesso si vedono i risultati, ma il prossimo anno naturalmente, quest'anno non ha potuto partecipare ai mondiali, il prossimo anno parteciperà ai mondiali e vinceremo. Li vinciamo. Li vinciamo. Vai. Allora, rimettiamo un po' d'ordine capitano, perché i tuoi compagni hanno smesso di far casino da quando sono poi scesi dalla pedana. Mi raccontavi in breve prima la storia del gruppo Sciabola, di questo centro sportivo che un po' hai vissuto, diciamo sin dall'inizio. Non ci eravate mai riusciti prima, perché? Ma in realtà non lo so, questo è un gruppo giovane, noi siamo nati come centro sportivo di Sciabola nel 2007, quando sono entrato io. Abbiamo impiegato due o tre anni per mettere insieme una squadra che è dovuta partire in A2, quindi abbiamo fatto una promozione incredibile in A1, e poi ci sono stati degli anni di assestamento e ora negli ultimi quattro campioni italiane abbiamo fatto tre medaglie di bronzo e un argento perso a 44. Non lo so, non lo so come mai non ci eravamo mai riusciti, però... Dici come ci siete riusciti adesso. Esatto, ci siamo riusciti unendoci, unendoci anche con l'assenza di Dario che ovviamente ci dispiace molto, e tirare in tre e non tirare in quattro è una cosa veramente molto difficile, però ci siamo uniti, ci siamo guardati negli occhi stamattina, abbiamo detto che volevamo vincere a tutti i costi, che questo poteva essere il nostro campionato, ci sentivamo maturi e abbiamo vinto il titolo italiano. Penso, vorrei aggiungere, che ognuno in questa squadra ha le proprie motivazioni forti, vogliamo arrivare al risultato e adesso è il primo passo, ce l'abbiamo fatta, ora sempre al top. Sarebbe bello chiudere così come le storisti di Gabriele Foschini, però l'ultima domanda poteva essere, solitamente metto le squadre qui sul divano e chiedo chi fa una parte, lei è colui che tranquillizza, l'altro invece ci dà la carica, l'altro è il saggio della squadra che ci... Qui chi tranquillizza, a chi si direbbe a casa nostra? Qui non tranquillizza nessuno a nessuno, perché noi viviamo di motivazioni, viviamo di urla, di garra e questo, quindi noi siamo disordinati, scomposti, urliamo, questa è la nostra forza, quindi guai a mettere ordine in questa squadra, guai. Grazie ragazzi, complimenti al centro sportivo esercito, campione d'Italia, nella sciabola maschile a squadre e facciamo subito la staffetta facendo entrare la squadra delle fiamme gialle, che ha vinto il titolo femminile invece, grazie ragazzi, complimenti. Io salto qui perché c'è anche un capitano non giocatore da accogliere, vieni Enrico Berrè, eccoci qua, disponiamoci, disponiamoci. Cominciamo con il capitano Enrico Berrè che ha guidato la squadra delle fiamme gialle di Fioretto femminile, ah sciabola femminile scusate, era preparata, era fatta apposta, perché in questa squadra, allora cominciamo da rene, perché meno di 24 ore fa abbiamo detto domani c'è la gara squadra, abbiamo una squadra sperimentale, l'abbiamo definita, è pari che l'esperimento insomma non sia andato maluccio tutto sommato. No è vero, diciamo che Beatrice era già stata la nostra esperimento, qualche anno fa e avevamo già vinto, quindi potremmo, è già stata campionata. L'esperienza consumata Beatrice, sì. No è vero, siamo, insomma, le nostre compagnie di squadra hanno smesso di fare le attrate tra l'altro scorso anno, quindi quest'anno dovevamo giocarcela sull'onda dell'entusiasmo, siamo state squadra perché nonostante i momenti difficili siamo sempre sostenute, sempre divertite, devo essere sincera e penso che questa sia la miglior conclusione di questo campione italiano. Poi devo dire che ho visto nascere questa squadra, tanti altri ieri, quando vi allenavate qui dietro e insomma è curioso, è bello che vi rieinventiate in qualche modo. Sentiamo Beatrice che è esperienza consumata, d'accordo, perché avevi già tirato di sciabola, però insomma l'altro giorno quando ti allenavi prendevi un po' le misure come un paio di scarpe che non mettevi da un po' di tempo. Stavamo facendo rifinitura, ecco, semplicemente un po' di rifinitura. No, è stata un'emozione incredibile, cioè non ci crediamo ancora, non ci crediamo ancora. E una cosa incredibile è che pensavamo comunque, vabbè, non è la nostra arma, ci veniamo poi a divertire, però poi quando sei su quelle pedane l'agonismo viene fuori, la voglia di vincere viene fuori e siamo maturate durante la giornata, perché siamo partite comunque un po' titubanti, magari non convinte al 100%, ma siamo diventate proprio squadra al 100% alla fine. È stato bellissimo. Quindi quando siete arrivate poi in finale a quel punto, avete detto, a questo punto la facciamo tutta, facciamo sino in fondo l'impresa. Potevamo soltanto guadagnarci, potevamo soltanto vincere e guadagnarci, oppure arrivare seconda, avevamo già fatto un risultato incredibile, quindi ci siamo veramente, veramente divertite tanto e poi la squadra proprio ha tenuto sia mentalmente che fisicamente, perché oggi ci sono stati un po' di problemi fisici tra tutte, però una grinta incredibile. Grazie ragazzi, perché è stato bellissimo. Un po' di problemi fisici, allora andiamo da questa parte. Noi qui abbiamo due bicampionesse, Camilla Mancini l'altro giorno diceva non avevo mai vinto il titolo italiano, mi mancava il titolo assoluto, ne vinti due addirittura, torni a casa con due titoli, questo di sciabola che sapori ha? Che ti devo dire? Io il titolo a squadra non l'avevo proprio manco vinto mai di Fioretto, meno male che non ho messo il calendario al contrario, altrimenti... Bellissimo, grazie a tutte e tre perché mi avete fatto vivere la giornata più emozionante dell'anno e ho vinto gli italiani individuali, quindi pensate un po' quanto mi sono divertita. No, bellissimo, troppo entusiasmante. E questa giovane compagna invece? Che avete caricato di responsabilità in un modo enorme, l'avete buttata lì? Adesso vai vai vai! È stata bravissima, era soppa, è piccola e comunque si è andata a scontrare con una squadra, anche quelle prima, ma specialmente la polizia che ha tutte errate molto mature, che poi tra l'altro partecipano anche ai mondiali, mi ha tenuto botta benissimo, ho avuto proprio due scatole così sotto enormi... Bravissima, bravissima. Come me l'hai presentata, soppa piccola con le scatole e con gli occhi azzurri, vieni Benedetta Fusetti, bene, qualche giorno fa hai vinto il titolo Under 20, quindi hai fatto il viaggio Sicilia-Valdaosta e questa squadra invece è il capitano, sentiamo che è il capitano. Il capitano veramente ci ha aiutato tantissimo, vi ringrazio tutte e tre che mi hanno fatto vivere una bellissima emozione, veramente, e sono felicissima, davvero. Una giovane, bravissima sciabolatrice che ha quanti anni meno, dicevi, d'altro giorno? Fattelo dire da lei, vai! 12 anni! 12 anni, va bene! Due fiorettiste, capitando in lungo corso, ma questa squadra non sarebbe mai arrivata dove è arrivata se non avessi avuto la sua guida spirituale a fondo pedana, chiedevamo, scusate, chi microfoniamo a fondo pedana per le fiamme in giallo? Enrico Berré. Benvenuto Enrico Berré. Grazie mille. Non potevi essere un turista da Montebianco qui a Cormaglier, ma volevi evidentemente recitare la tua parte. Quando hai visto questa squadra che cosa gli hai detto? Io non ho mai avuto dubbi, sinceramente. Allora, parliamoci chiaramente. Campionista italiana. Campionista italiana Under 20. Campionista italiana di Fioretto. E lei, diciamo, l'ha già stata campionista italiana a squadre. Siamo i favoriti, sì o no? Mi sembra evidente. Avesse avuto 100 euro qui da aver messo subito. Sì, però non è bello scommettere. Detto ciò, diciamo che quando c'è stato quel piccolo infortunio a Benni, i nostri sguardi non erano poi così convintissimi. Poi ci siamo ricaricati insieme, le ragazze mi hanno fatto veramente divertire. Era tanto che mancavo dalle palestre per problemi fisici. E tornare in palestra, in questo caso non da spettatore, vederle loro, quello che hanno fatto, perché è un'impresa. Parliamoci chiaramente, è un'impresa. Vinci un titolo italiano con due fiorette, è un'impresa. Mi hanno fatto divertire, emozionare, ho esultato. L'ultima volta che ho esultato così erano le Olimpiadi. Nel mezzo c'è stata una rottura del crociato, quindi sono strafelice della giornata. Senti, come hanno ricevuto i consigli a fondo pedale? Perché vedevo un dialogo molto acceso. Irene rideva, continuava a gridere, non so se istericamente oppure in modo convinto, però funzionavano. Funzionavano perché non mi ascoltavano, semplicemente. Io provavo a dare dei consigli tecnici, poi in realtà le urla di dai non mollare andavano molto meglio della tecnica in questo caso, perché nella sciabola si può vincere anche solo di cuore e non per forza di tecnica. E oggi l'hanno dimostrato in tutto e per tutto. Come vedete la scherma è sempre uguale, si può vincere anche se si fa un'altra arma, si può non ascoltare quello che ti dicono a fondo pedale, ma poi alla fine l'esito della pedale è quello di... Grazie ragazzi, complimenti. Certo. La stavo per dire io, ma la dirai tu. No, ma dici che non so di dire a te, lo dico prima io. Dico prima la mia. No. Io volevo dire una cosa, so che è quello che vorrà dire Enrico, ma io ci tengo tanto a ringraziare Enrico che è venuto qui, si è fatto il viaggio da casa fino a qua solo per partecipare a tutta la settimana. Ti auguro che sia di buon auspicio, di pronta guarigione, portati con entusiasmo per ripartire e riparti da qua. Poi non è che ti stanno aspettando gli altri, non ti ha mai nominato nessuno in questo periodo. In realtà aveva il biglietto dello Skyway in tasca, pensava oggi di andarlo a vedere e gli avete rovinato la settimana. Prego. No, grazie. Non è stato un periodo facilissimo, questo mi ha dato tanto, tanto entusiasmo che a volte il monitor per vedere i miei amici, i miei compagni di squadra non trasmette. Ulteriore cosa, era l'ultimissima stoccata che il nostro maresciallo storico vedeva e quindi penso questo, come ho già definito, miracolo, forse uso una parola forte, sportivo sia il degno riconoscimento di quello che per tutti noi e per i ragazzi che sono stati sotto la sua guida si merita come conclusione. Quindi grazie davvero di tutto, capo. Chiudiamo così, io ringrazio voi per aver avuto la pazienza di aspettare fino alla fine, ringrazio quanti ci hanno seguito. In questi sei lunghi giorni degli assoluti 2022, Corrado, Giuseppe per le immagini della regia, Marta Mulete d'Ufficio Stampa, Giacomo Di Giudio per il commento, Luca Magni per il commento, ultimo non per ultimo, Augusto Bizi per averci raccontato con le sue foto le emozioni di questi sei giorni. Ci vediamo da venerdì a Macerata, tu pensi che sia finita? Ci vediamo da Macerata per i campionati italiani paralimpici 2022 per chi vorrà appuntamento a venerdì. Grazie e buona serata da Curma Ieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.